C'è una linea che ci regali, ma che tanto è difficile spiegarlo. Le metamorfosi della gioia, si chiama. E' del ricordo perché ne sono so. E' da un po' che non ci facciamo. Dopo ho scelto questo luogo, questa cavia, mia, mia luce numero 11. Non so che devi spettare. Ogni tanto sentiamo un fischio, va bene. Sono i momenti a tornare, come soldati dal fronte. L'amore non dice addio. Perché mai cadevano le cose? Orde di guerrieri mongoli attaccarono caffè. Cadaveri appestati, catapultati e la vittoria si tramutò in un disastro. Lo spazio accanto è espressione, lo sgretolamento dei minuti. Si rimarrebbe in silenzio ad ascoltare la reazione di tutto il corpo unito. E' così l'addio di ogni giorno, la piccola morte che si ripete mattina e sera, mattina e poi sera. Scorrendo piccoli respiri sulla terra, piccoli respiri nel paesaggio che si ripete. Scorrendo piccoli respiri sulla terra, piccoli respiri sulla terra, piccoli respiri nel paese. Poi quando si torna c'è ancora il cielo. Poi quando si torna c'è ancora un cielo. I colori come occhi, sbavature in curva come rosso sul braccio che avanza. Leviamo lo sguardo agli aeroplani. Ed è mattina, da qualche altra parte. E così, se hai le mani a coppetta, ti ci può piovere dentro di tutto. I sassolini che ti guardi finché camminando scricchioli. La luce mentre fuoriesce dai barattoli del mattino lucidi. Perché le mani? Perché le mani? Perché le mani? Perché le mani? Così? Che chi lo spina le un attacchia marketing? E poi lo raccontano... E poi lo raccontano... E poi lo raccontano... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.